Come promesso abbiamo mantenuto l'impegno di stanziare ulteriori 20 milioni di euro per la copertura degli assegni di cura, che si aggiungono ai 12 milioni già stanziati dalla Regione e ai 18 milioni stanziati dallo Stato, un impegno preso con le associazioni di famiglie con le quali abbiamo anche avviato un percorso partecipato per la scrittura del prossimo bando. Lo ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con riferimento alla rimodulazione da parte del Consiglio regionale votato all'unanimità di 20 milioni di euro per gli assegni di cura. Si sta quindi concretizzando l'impegno assunto dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nei confronti di disabili gravi e gravissimi per frondeggiare con ulteriori milioni di euro l'erogazione degli assegni di cura necessari per l'assistenza. La Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Puglia ha infatti approvato la rimodulazione di 20 milioni di euro, destinando agli assegni di cura una quota dei fondi originariamente destinati al trasporto pubblico locale, grazie a maggiori trasferimenti di risorse statali che lasciano invariato lo stanziamento sul TPL. Lo scorso 15 marzo, oltre un centinaio tra disabili anche ammalati di SLA, loro familiari e membri delle maggiori associazioni di volontariato che si occupano dell'assistenza complita dei malati gravi, protestarono dinanzi alla sede della Presidenza della Regione Puglia con un presidio per chiedere conto dei ritardi nell'erogazione degli assegni di cura che erano stati bloccati da luglio 2017. Stiamo cercando di rimediare con un aumento del finanziamento di questo settore, passando da 18 a 50 milioni, spiegò quel giorno Emiliano incontrandoli. Così è stato.